Musica Dopo il voto del 25 settembre si profila un azzoramento dell'Aggiunta regionale, ieri l'annuncio del Presidente Solinas che è il racconto dei gruppi in consiglio. Il caro Bollette sta prosciugando i bilanci dei consorsi di bonifica, i ritardi nei pagamenti da parte della Regione costringono gli enti e consortili ad accumulare debiti con le banche, l'Ambi Sardegna lancia l'allarme. Una nuova centenaria ad Alghero è la signora Cristina Beniamina Mantello che a ieri ha festeggiato con figli e nipoti, gli auguri anche del Sindaco Conoci e del Presidente del Consiglio regionale Paes. Un saluto a tutti voi e bentrovati, è una nuova edizione del nostro telegiornale La politica in primo piano perché arrivano i primi effetti del voto del 25 settembre. In vista il rimpasto dell'Aggiunta regionale guidata dal Presidente Cristian Solinas, è stato lo stesso governatore ad annunciarlo ieri. Più che di rimpasto, il Presidente Solina si riha parlato di azzeramento. Sarà totale e immediato, ma non sono escluse riconferme. Possibile anche un rimescolamento delle deleghe. Per consentire un dibattito il più franco e libero possibile tra le forze politiche, credo sia necessario ripartire da un azzeramento totale della Giunta che non significa bocciatura per nessuno, anzi ci potranno essere anche diverse riconferme. Ha dichiarato ieri nelle interviste rilasciate a Videoline e TGR Sardegna. Credo inoltre che si debba rivisitare la formazione della Giunta, sulla base degli impegni programmatici che vorremmo portare avanti in quest'anno e mezzo che ci separa dal voto. Per fare questo Solinas ha fatto sapere che terrà conto della consistenza delle forze in campo in Consiglio regionale, non di gruppi in Parlamento. Sapevamo che in questo turno il vento non soffiava forte, come nel 2018, per la Lega e si era spostato su altri movimenti, ha precisato. Il Pisdaz ha voluto essere leale e coerente e siamo rimasti fermi nell'alleanza programmatica con la quale abbiamo stabilito cinque punti di interesse per la Sardegna e ha ottenuto il risultato che è il migliore di tutto il centro-sud. Un risultato che non va sicuramente confuso con il dato di elezioni profondamente diverse. Quando ci saranno le regionali e ci sarà il simbolo, il partito sardo d'azione chiaramente ragioneremo in maniera differente. Sicuramente nella nuova giunta non ci sarà l'assessore all'ambiente, Gianni Lampis, che tra pochi giorni farà il suo esordio alla Camera con Fratelli d'Italia. Ma potrebbero essere anche altre le novità che rischia l'assessore alla sanità, Mario Niedu, in quota Lega. Al suo posto potrebbe essere designato Carlo Doria, che ha mancato l'elezione al Senato. Ma Solinas dovrà fare i conti anche con l'affronda interna al proprio partito, il Pisdaz. Alessandra Zedda e Giuseppe Fasorino, invece, i due assessori di Forza Italia, secondo partito del centrodestra, sono praticamente intoccabili. Se ne saprà comunque di più nei prossimi giorni. Ma intanto il gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, ieri, ha parlato di un patto di fine legislatura. Il Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, a nome dell'intera Assemblea, ha invece formulato i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi deputati e senatori eletti nel nuovo Parlamento. Sono certo, ha detto Paes, che i nuovi eletti sapranno rappresentare a Roma le esigenze del popolo sardo. In un periodo difficile come quello attuale, è fondamentale che i nostri rappresentanti, uniti e senza distinzione di parte politica, sostengano l'effettiva attuazione dello Statuto Autonomo della nostra isola. Buon lavoro a tutti voi, ha aggiunto Paes, auspica una sempre maggiore e costante collaborazione con il Consiglio regionale per portare avanti le battaglie fondamentali per lo sviluppo della nostra terra. E a livello nazionale, ma anche in Sardegna, la prima forza politica è stata Fratelli d'Italia. Dal Ghero è andata un po' diversamente, con il Movimento 5 Stelle, che ha raccolto più voti di tutti, anche se nel centro-destra, che è risultata la coalizione vincente, è stato il partito di Giorgia Meloni a prevalere, seguito da Forza Italia e Lega. Abbiamo commentato il voto e parlato delle prospettive future con il coordinatore locale di Fratelli d'Italia, Marco Di Ganci. Partiamo dal dato di Alghero. Fratelli d'Italia, primo partito del centro-destra, cittadino, subito dopo il Movimento 5 Stelle a livello complessivo. Siete soddisfatti di questo risultato? Io credo proprio di sì. Non esultiamo, perché ci è stato anche chiesto di esprimere questa gioia in maniera sobria. Però credo che il risultato sia eccezionale. Voglio sottolineare che nelle elezioni politiche del 2018 prendemmo 742 voti. Oggi arriviamo a sfiorare i 4.000, con una crescita percentuale di oltre il 500%. Per cui questo è un risultato per noi inimmaginabile, che chiaramente è dovuto alla grande capacità del nostro Presidente, Giorgia Meloni, e del partito che ci ha lavorato insieme, a trasmettere all'Italia un messaggio nuovo, forte, di coerenza, di serietà, di lealtà e di impegno. Archiviato il voto a livello nazionale, ovviamente si guarda ora a livello locale. Ieri il gruppo del Consiglio regionale ha lanciato un patto di fine legislatura. Ad Alghero invece? Io credo che anche qui sia necessaria una riflessione, perché gli scenari sono completamente cambiati. Vediamo gli altri partiti della coalizione, che comunque tengono, però rispetto al 2018, sostanzialmente vedono dimezzati i propri consensi, e su quelli hanno costruito ovviamente poi quella che è l'attuale situazione amministrativa ad Alghero, con i quali noi intendiamo continuare a collaborare con la massima lealtà, con il massimo spirito di collaborazione, però sicuramente ridefinendo alcune priorità, ridefinendo insieme agli alleati, a tutti gli alleati, quelli che appunto saranno gli obiettivi da raggiungere in questo scorcio di mandato amministrativo che rimane. E sulle elezioni politiche, sul risultato delle urne, arriva il commento di Confartigianato Imprese Sardegna, che con Maria Melialaio e Daniele Serra si rivolge ai nuovi deputati e senatori. Tenere sempre ben presente le richieste delle imprese, dei dipendenti e dei territori. Le piccole e medie imprese rappresentano il 99,4% del tessuto produttivo. La richiesta principale degli artigiani, affrontare subito la questione energetica a rischio migliaia di imprese e posti di lavoro. La speranza è che i deputati e senatori della Sardegna, nuovi e riconfermati, possano tenere sempre ben presente le richieste delle imprese, dei lavoratori e dei territori. Alle elette e agli eletti va il nostro augurio, il nostro in bocca al lupo per il lavoro da svolgere nel prossimo quinquennio, che possa ripartire da un tessuto imprenditoriale, quelli delle piccole e medie realtà, che rappresenta il 99,4% del sistema economico e che dà lavoro al 65,3% degli occupati. In tutto questo è imprescindibile affrontare immediatamente la crisi energetica, che rischia di cancellare gran parte delle attività produttive. E questo è il primo commento di Maria Melialai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, al risultato delle elezioni politiche appena concluse e che hanno visto vincitrice la coalizione di centrodestra e che nei prossimi giorni, fanno sapere, cominceranno ad incontrare tutti i rappresentanti sardi al Parlamento che vorranno intraprendere un dialogo costruttivo. Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno di un forte interesse da parte dei parlamentari, questo lo vogliamo ribadire, sottolineano Lai e Serra. Confartigianato Sardegna ricorda come il prossimo governo e il nuovo Parlamento dovranno affrontare l'uscita dalla pandemia e la crisi energetica con un potenziale negativo devastante in Sardegna. La situazione è analoga al resto del continente europeo, se non peggiore, considerata anche la pesante condizione di insularità. L'artigianato in Sardegna, infatti, con le sue 35.000 imprese e un tessuto produttivo molto fragile che sta lottando per sopravvivere. Servono interventi immediate e altrettante riforme strutturali per riportare i prezzi dell'energia sotto controllo e scongiurare un'ecatombe di attività. Da settembre 2021 ad oggi, queste hanno pagato per l'energia elettrica 425 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Un impatto senza precedenti sulle piccole attività produttive isolane che rischia di ingigantirsi ulteriormente se nei prossimi mesi i prezzi dell'elettricità non diminuiranno. Gli artigiani sardi chiedono che il tema energia diventi priorità per il nuovo governo e si aspettano la riforma della tassazione dell'energia che oggi incide per il 51% della bolletta e che penalizza con maggiori oneri proprio le piccole imprese che consumano meno. In barba, al principio, chi inquina paga. E la paura di un taglio all'erogazione dell'energia verso le imprese è un dubbio che non lascia tranquilli i piccoli imprenditori. Alle forze politiche che rappresenteranno le stanze dei cittadini nei prossimi cinque anni, gli artigiani sardi chiedono di ascoltare i piccoli giganti, coraggiosi, che si battono per restare competitivi e per fare del paese la seconda manifattura d'Europa. A coloro che guideranno il paese, concludono l'Ai e Serra, chiediamo di considerare l'artigianato e la piccola impresa centrali rispetto agli interventi per rilanciare lo sviluppo e di riorientare l'attenzione su coloro che hanno dimostrato di saper che la preoccupazione è benessere economico, coesione e sociale. Insomma, tutto ciò che necessita questo fragile ma fondamentale settore è una stabilità politica, ovvero la certezza di programmare e di poter portare avanti i progetti e sviluppo. L'Italia, così come la Sardegna, ha bisogno di certezze e di una visione prospettica di lungo respiro. Il caro Bollette sta prosciugando i bilanci dei consorsi di bonifica e i ritardi nei pagamenti da parte della regione costringono gli enti consortili ad accumulare debiti con le banche. Ambi Sardegna ha proposto di manifestare nelle prefetture e allarme sociali, dice. È una tempesta perfetta quella che sta attraversando le campagne della Sardegna che potrebbe presto sfociare in clamorose manifestazioni di protesta. Per adesso si andrà a bussare alla porta delle prefetture. Lo annuncia l'Ambi Sardegna insieme alle organizzazioni di categoria, col diretti, confagricoltura e CIA. Il presidente dell'ente, che rappresenta i tutele sette consorsi di bonifica, ha convocato una conferenza stampa per lanciare l'allarme l'ennesimo. Si è arrivati a un punto di non ritorno, corre scongiurare un eventuale distacco delle utenze da parte dei gestori del servizio elettrico che avrebbe terribili conseguenze non solo sul mondo agricolo ma anche per tutta la società civile perché verrebbero a fermarsi le idrovore, ha spiegato Gavino Zirattu durante l'incontro con la stampa organizzato nella sede del consorzio di bonifica Sardegna Meridionale. Subito è necessario un intervento, così come prevede la legge dopodiché, ha proseguito, occorre sedersi intorno a un tavolo per un progetto di efficientamento energetico. E se su questo punto la politica regionale si finora dimostrata sorda i vertici dei consorsi di bonifica andranno a parlare con i prefetti di ogni territorio perché si tratta di un allarme sociale. I consorsi infatti non possono fare economia sul funzionamento degli impianti dai quali dipende l'irrigazione delle eccellenze agricole sarde e la sicurezza idraulica e idrogeologica dei territori ma non possono continuare a sostenere costi fuori controllo con una struttura che si regge per i ritardi dei fondi regionali esclusivamente dei contributi dei consorziati. Si parla di un sistema che comprende 12.000 chilometri di condotte per circa 1 miliardo e 950 milioni di metri cubi di acqua che ogni anno viene invasata. La politica deve dare delle risposte, ha commentato Battista Qualbu presidente di Coldiretti, e deve prendere in mano la questione con la giusta serietà. La situazione è ormai insostenibile e non più rinviabile. Marcello Onorato, direttore di Confagricoltura, ha posto l'attenzione sui tempi lunghi della burocrazia. I consorzi sono con l'acqua alla gola, avvertito riferendosi ai clamorosi ritardi nell'erogazione dei ristori. Per Francesco Erbi, presidente della CIA, infine il rischio, ma è più una certezza, è che le imprese siano messe fuori mercato. Questo va scongiurato in modo assoluto e la legge regionale va superata almeno in alcuni articoli. I consorzi devono avere autonomia per la gestione dell'acqua e la produzione di energia elettrica. Servono due ordini di interventi, ha concluso il presidente di Ambi Sardegna, Gavino Zirattu, uno immediato per tamponare la situazione e uno strutturale che consenta ai consorzi di essere autonomi e autosufficienti una volta per tutte con la modifica della legge regionale. Abbiamo gli strumenti e gli impianti per poterlo fare. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte. Parliamo di turismo in apertura di seconda parte, perché domani si terranno a Cagliari gli stati generali con l'obiettivo di analizzare i flussi di stagione turistica 2022 per un confronto sullo sviluppo della destinazione Sardegna. Interverranno il governatore Solina, Seglia Sessori Chessa, Sanna, Zedda e Fasolino. Domani mattina la sala Castello dell'hotel Regina Margherita Cagliari ospiterà gli stati generali del turismo, con l'obiettivo di analizzare i flussi di stagione turistica 2022 e per un confronto sullo sviluppo della destinazione Sardegna. La prima sessione si chiuderà alle 13, mentre la seconda si svolgerà dalle 14.30 alle 17.00. Vogliamo fare un bilancio di questa stagione, ragionare sul futuro con protagonisti della filiera, amministratori locali ed esperti che si potranno confrontare col presidente della regione e alcuni assessori regionali, ha sottolineato il delegato del turismo Gianni Chessa. Sarà un'ottima occasione per preparare la prossima stagione, oltre che per coordinare gli sforzi verso la realizzazione di alcuni obiettivi, tra i quali anche una definitiva destagionalizzazione dei flussi turistici. Tratteremo alcuni aspetti fondamentali, come la formazione, l'accoglienza, l'ospitalità e la certezza dei collegamenti, ma anche i problemi legati all'assistenza sanitaria all'ambiente nei periodi di maggiore affluenza nell'isola. Solo creando una fattiva collaborazione tra i vari attori possiamo affrontare le criticità e gestire l'ipotesi di un turismo in continua crescita. Sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria, anche datoriali, gli operatori di settore, i sindaci dei maggiori comuni costieri e i direttori generali delle aziende sanitarie. Ai lavori parteciperanno il presidente della regione, Cristian Solinas, gli assessori del turismo, degli enti locali, del lavoro e del bilancio, Gianni Chessa, Quirico Sanna, Alessandra Zedda e Giuseppe Fasolino. Interverranno anche Andrea Delfini, fondatore del Nero Lifestyle Hotels, Eceo di Balsness e Salvatore Messina, economista specializzato in marketing e promozione turistica. La politica cittadina, ora dopo l'ampio spazio in prima parte dedicato a quella regionale è l'esito del voto, intanto col dire che ieri è saltata l'assemblea prevista del palco di Porto Conte per mancanza del numero legale. Centrosinistra e 5 Stelle hanno attaccato la maggioranza. Nulla è servito a ritardo del primo appello per permettere l'arrivo di Conoci, neppure l'arrivo del sindaco, infatti è servito a risvegliare l'apatia dei suoi consiglieri che hanno preferito non presentarsi alla riunione. Hanno scritto in una nota gli esponenti di Peralghero, Futuro Comune, PD, Sinistra in Comune e Movimento 5 Stelle, secondo i quali il disinteresse nei confronti del parco di Porto Conte e il generale Menefreghismo degli esponenti del centro-destra algherese ormai non conosce proprio più limiti. Non capiamo veramente a chi giovi questo stato di cose, con una maggioranza che tra apatia e bisticci manda di continuo deserto. le riunioni di commissione, consigli e assemblee del parco. È andata meglio invece il giorno prima in Consiglio Comunale, è stato infatti approvato il regolamento per la tassa di soggiorno, dopo le polemiche che avevano caratterizzato le scorse settimane, sicuramente ricorderete, ma è arrivato anche il via libera al diritto di prelazione su una porzione dell'ex scuderia di Maria Pia, dove è presente la proprietà di un privato che grazie all'usucapione ha acquisito la porzione di stabile. Voto unanime, inoltre, per l'ordine del giorno sulle olic offshore a largo di Capocaccia, con il quale si chiede di fatto al sindaco di poter realmente entrare nel merito del progetto, capire gli effetti positivi, qualora ce ne fossero, sul nostro territorio, le eventuali compensazioni, danni ambientali e le ricadute economiche sulla nostra città. La nostra città ieri ha festeggiato la signora Cristina Veniamina Mantello, che ha compiuto cent'anni nella sua casa del quartiere di Sant'Agostino. La centenaria ha festeggiato il compleanno attorniata dai suoi cinque figli, che vivono sparsi per l'Europa a Roma, in Spagna e in Inghilterra. Ieri il sindaco Mario Conoci gli ha fatto visita con un omaggio floreale per porgere gli auguri di buon compleanno. La signora Cristina, sposata a Podda, ha dieci nipoti e un pronipote. Suo marito, scomparso 33 anni fa, faceva all'imprenditore dire ed è stato uno degli artigiani impegnati nel 1954 nella costruzione della Scala del Cabirolla Capocaccia. La visita anche da parte del Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, che ha detto che ha voluto festeggiare una nuova centenaria algerese, la signora Cristina, con lei i figli e i tanti nipoti che non sono voluti mancare in questa giornata speciale. Di lei, ha aggiunto Paes, mi ha colpito la sua vitalità e lucidità. Lei è il mio più affettuoso e sincero augurio di buon compleanno. Ovviamente anche noi ci uniamo agli auguri alla signora Cristina. Domani, 29 settembre, si celebra la festa del patrono San Michele. A causa del maltempo previsto, però, sono stati rinviati gli appuntamenti che erano inizialmente previsti oggi e domani sul palco del Qualtè ad Alghero, ovviamente con Federico Perrotta in La Banda, con la banda musicale D'Alerci e Filippo Graziani in Ivan 25, dedicato a Ivan Graziani. Rimangono confermati invece i concerti della Banda Bardò e Cisco il 30 settembre e quello di Marassatei il 1 ottobre. La programmazione musicale e culturale del San Michele Festival, sostenuto dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma Quadro Salute e Tregu, realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali, quindi va incontro ad alcune modifiche a causa delle proibitive condizioni meteorologiche di questi giorni. per entrambi gli spettacoli, però, sono già previste le nuove date al Teatro Civico Gavi Ballero all'interno del già ricco cartellone del Cadean. Saranno recuperati in particolare il prossimo 28 dicembre la banda, mentre Filippo Graziani si esibirà il nuovo anno il 7 gennaio del 2023. Lo sport ora, poker azzurro nella prima giornata del Sardinia Open, trofeo e ambiente, 22esima edizione del torneo ETF di wheelchair tennis più importante d'Italia e tra i più importanti del mondo, iniziato ieri sui camping green set del tennis club Alghero. Luca Meini e Lorenzo Dell'Innocenti nel tabellone maschile, Marianna Lauro nel femminile e Maria Grazia Lumini nei quad, tengono alta la bandiera italiana nella prima giornata. Nel tabellone maschile Meini l'ha spuntata 6-2, 1-6, 6-4 nel derby italiano contro la wildcard Stefano Puccetti, mentre Dell'Innocenti ha superato 6-7, 7-5, 6-2 il francese Christian Gross. Avanti con facilità le otto teste di serie, perdono appena nove game in otto match, mentre salutano la compagnia gli italiani Mario Cabras, Antonio Cippo, Pasquale Greco, Gerardo Riccardi, Edgar Andres, Calvini Losano e Paolo Tontodonati. Nel singolare femminile buona prova di Lauro che regola 6-1, 6-4 la svizzera Angela Grosswiller, sconfitte invece per Francesca Baldini, Roberta Faccioli e Giulia Valdo. Approfittano di un buy ed entrano in gara negli ottavi di finale le otto teste di serie e l'italiana Maria Paola Tolu. Tra i quad, Lumini invece vincente 6-1, 7-5 sullo svizzero, Timo Breckbuell, out Nicola Stori, Ivano Boriva, Mario Alfredo Naselli e Alberto Saia. In chiusura la nostra rubrica, torniamo al cinema, vediamo allora insieme la programmazione nei prossimi giorni nel cinema Miramare a partire da domani, giovedì 29 sino a domenica 2 ottobre, Dante alle 18.45 e Don't Worry Darling alle 20.45. Lunedì 3 e martedì 4 ottobre invece avremo Don't Worry Darling alle 18.30 e Dante alle 20.45. Per l'acquisto dei biglietti, lo ricordiamo, il sito è sempre lo stesso, live-ticket.it slash cinema Miramare Alghero. La programmazione del cinema chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale, io come sempre vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi e rivedeteci.